Siamo a Maddaloni, villaggio dei ragazzi, con il consigliere comunale Luigi Bove. All'interno della fondazione, il governatore De Luca, fuori un po' tutto l'arco costituzionale maddalonese. Maggioranze e opposizioni, compreso il Partito Democratico, esclusi dalla visita del governatore. Ma è un fatto assolutamente grave che io voglio far notare. In questi minuti il presidente De Luca è a villaggio dei ragazzi e noi consiglieri comunali di maggioranza e opposizione non siamo stati invitati. Da un lato questa situazione fa emergere il peso politico pari allo zero dell'attuale amministrazione comunale di Maddaloni e del sindaco. Dall'altro lato è uno schiaffo in faccia alla città che la fondazione, il villaggio dei ragazzi, in questi minuti sta dando a noi rappresentanti del popolo e alla città intera, ma anche lo staff del presidente De Luca. E poi è una sconfitta politica su tutti i fronti del Partito Democratico di Maddaloni. Se pensiamo che due giorni fa il Partito Democratico di Maddaloni ha fatto un manifesto in sostegno dell'operato di un loro esponente regionale a fuori del villaggio e oggi sono alla porta. Cosa avrebbe voluto chiedere al presidente De Luca in relazione al villaggio? Ma io in realtà prima di rispondere a questa domanda voglio fare una precisazione. Io stamattina mi sono presentato ai cancelli della fondazione Villaggio dei Ragazzi, non utilizzando, avrei potuto farlo a pieno titolo, non utilizzando la mia carica di consigliere comunale di questa città, ma ho esibito la mia tessera di giornalista iscritto all'ordine dei giornalisti pubblicisti della regione Campania, non mi hanno fatto entrare. Di questa cosa renderà noto l'ordine dei giornalisti della Campania e poi la fondazione Villaggio dei Ragazzi risponderà di questa cosa, di questa cosa dolente all'ordine dei giornalisti. Cosa avrei dovuto innanzitutto, cosa avrei voluto chiedere al presidente De Luca, avrei innanzitutto voluto ascoltare il suo impegno nei confronti della fondazione Villaggio dei Ragazzi, ma in modo particolare gli avrei chiesto, oltre all'azione di rientro dei debiti, cosa intende fare per il rilancio di questa fondazione, che a di là di oggi, che probabilmente subisce dei contraccolpi e comunque rappresenta la storia della città di Maddaloni. La presenza del governatore De Luca è ghiotta anche per toccare le tante questioni ambientali che lei ha affrontato in prima persona nella precedente consigliatura di assessori all'ambiente. Dubbiamente in questa città emerge in maniera improcrastinabile la vicenda della messa in sicurezza e bonifica della Cava Monti, della Masteria Monti. Non è possibile che continuiamo a navigare a vista e non è possibile che il sindaco di Maddaloni non partecipi all'audizione convocata a Roma presso la commissione apposita del Senato della Repubblica, delega questo sindaco, delega tutti su tutto e non interviene sulle vicende che hanno a che fare, che toccano le corde e il cuore dei maddalonesi. Bisogna procedere quanto prima alla bonifica della Masteria Monti. E considero capestro la convenzione che il Comune di Maddaloni ha fatto di recente con la regione Campania, perché capestro? Perché praticamente con questa convenzione il Comune di Maddaloni deve anticipare 200.000 euro per ulteriori esami, analisi e studi. Stiamo ancora analizzando? Muoiono la gente, muoiono le persone, dobbiamo intervenire. Grazie al consigliere Bovi al prossimo appuntamento.